Un saluto da Jack Bonora. Il meditore di oggi in realtà è un modo per dirvi ciao, per salutare tutti i miei amici di questo fantastico mondo del poker che frequento da 15 anni. Un mondo che mi manca tanto perché insomma in questi anni, parliamoci chiaro, abbiamo passato tante giornate, tante nottate insieme ai tavoli, ai ristoranti, ai bar, chiacchierando di tutte le nostre emozioni della vita. È un momento molto particolare, in queste pagine siamo abituati a promozionare il Battle of Malta, anche se mi rendo conto che adesso diventa quasi sciocco parlare di un evento che noi speriamo che si realizzi dal 13 al 21 ottobre 2020 perché vorrebbe dire che il mondo del poker sia potuto riavvicinare, quindi quell'emergenza è finalmente terminata. Sarebbe bellissimo poter giocare questo grande torneo. Però in questo momento allontano quasi la promozione dell'evento e soprattutto mi permetto di dirvi che ci mancate, ci mancate tanto a me personalmente, che ho voglia di ritrovarvi, di chiacchierare, di intervistarvi perché insomma abbiamo passato come detto tanti anni insieme. Nel frattempo con il gruppo di Domus c'è la grande opportunità di giocare online, magari ci si preparerà proprio anche un po' di allenamento in qualche modo prima della grande partita che speriamo arrivi appunto dal 13 al 21 ottobre nel modo più bello e nella cornice migliore. Ci si può allenare online, i club hanno la possibilità di avere una propria skin e quindi non entro troppo nei dettagli. Vi dico solo che si sta operando in tutto e per tutto per avere l'occasione di stare insieme, per avere l'occasione di aggregarsi anche solamente virtualmente, ma lo dico sempre in attesa di ritrovarci tutti insieme nel casino di Malta dal 13 al 21 ottobre per il Battle of Malta, per un grandissimo torneo di poker ma soprattutto per tornare alla vita.